ciao a tutti ragazzi oggi voglio parlare dell'azienda a gluten che mi ha inviato questo enorme pacco adesso vi mostro nel dettaglio che cosa mi ha inviato allora partiamo da questo pacchetto che ci sono le focacce con le olive ce ne sono due confezionate singolarmente invece qui abbiamo le focacce toscane con l'olio extravergine d'oliva senza glutine ricche di fibre poi qui abbiamo due pacchetti di hamburger integrale sono ottimi per fare gli hamburger con questi panini poi abbiamo il panino con la curcuma sempre due confezioni due pacchi poi qui abbiamo il pan burger senza glutine ricco di fibre sempre con l'olio extravergine d'oliva poi qui partiamo con i panini francesino integrale in ogni confezione ce ne sono tre panini quindi ottimi poi abbiamo qui il francesino con la farina normale quindi con olio extravergine d'oliva ce ne sono sempre tre e poi qui abbiamo un altro pacchetto di panini con la farina integrale sono ottimi questi panini ricchi di fibre sempre e poi infine abbiamo questi due pacchetti di pan tostri integrale sono ottimi anche per la colazione però non rende il poveriggio sono come vedete due pacchi e niente questo è tutto il pacco che ho trovato tutti questi prodotti davvero ottimi e io ringrazio l'azienda a gluten per tutti questi prodotti vi lascio qui sotto il link dove potete acquistare questi prodotti grazie ancora